L'hockey mi è sembrato uno sport molto bello, allora l'ho provato e mi è piaciuto. Da primo lo faceva il mio zio, poi lo fa il mio fratello e ora io. È praticamente un'eredità e ci sta sempre lo stesso numero. Ma è stata una cosa che è capitata per caso, diciamo. Perché mi piace, perché avevo il cugino e lo zio che facevano hockey. Ho cominciato questo sport grazie a un volantino che mi è stato consegnato a scuola. Ho provato, mi sono appassionato e quindi ho continuato e ora sono sei anni che faccio hockey. Faccio hockey da quando avevo tre anni. Praticamente sono nato, tra un po' e avevo i pattini già sui piedi. Io ho cominciato quando ero più piccolo e quando ero più piccolo non mi feceva il calcio, quindi ho cominciato hockey. L'allenatore ci dice che non bisogna andare a cacciare palla, ma bisogna restare in linea e inquadrato e alcune volte è a rombo. L'allenatore ci dice sempre mettete grinta su quelle stecche. Se uno con la stecca aggancia il pattino c'è un cartellino blu che è un'espulsione di due minuti. Andare in diversi under in cui puoi diventare, andare nella stadia, spero. L'allenatore ci dice sempre più piccolo. Grazie.